Penso che insieme al Mistic sia la volontà di alzare l'asticella e cercare di vincere un profeta. Non è semplice, perché comunque in Italia il campionato è un po' monopolizzato dal luogo Juve. E comunque il campionato in questi ultimi anni la Juve ha fatto veramente un percorso a sé. In Coppa Italia abbiamo avuto anche la sfortuna di trovare nel tabellone un giro relativamente difficile. E soprattutto nell'Europa League io sono stato il primo a dire che ci poteva andare peggio con il sorteggio della Dinamo Chievo, però nel momento in cui arriva un determinato punto, i quarti di finale delle squadre comunque iniziano ad essere forti. Tra tutte era probabilmente quella che poteva andarci peggio, non poteva andarci anche meglio. E comunque la speranza è quella che il mister sia ancora qua, perché? Perché comunque è riuscito a dare un'identità alla squadra e soprattutto insieme a tutti i ragazzi, insieme a tutto il suo staff, si è riusciti a riportare l'entusiasmo attorno alla Fiorentina. Magari in queste ultime partite un po' meno, però comunque l'idea di riportare 40.000, 35.000, 40.000 tifosi allo stadio, non c'è stato in questi anni. Siamo passati da Fiorentina a Cagliari, penso 10.000 persone dell'ultima giornata di campionato 2009-2010, se adesso non mi ricordo precisamente l'anno, però siamo tornati a rivedere quasi 40.000, spero, per il francio. E l'altra domanda per Giuseppe, se posso, abbiamo tutti una grandissima...